Radio Regas Montemeglio In questo progetto vengono create piccole redazioni chiamate newsroom Suddivise in newsgroup tematici che trattano argomenti che vanno dalla cultura allo sport Dal tempo libero all'economia Il lavoro delle diverse newsroom viene pubblicato sul sito bilingue www.news4youth.eu Si può notare che nel sito viene scritto News 4 Youth Perché se no non viene trovato il sito E sono quindi visibili e consultabili e condivise tra tutti i partecipanti al progetto e a tutti coloro che sono interessati Chi partecipa a questo progetto parla Riccardo Memoli A questo progetto partecipano due diverse realtà Una in Germania, più precisamente a Berlino E un'altra qui in Italia Nella prima i ragazzi vengono scelti principalmente nelle scuole E hanno l'obiettivo di formare delle piccole redazioni chiamate newsroom Nella seconda invece i ragazzi vengono scelti nei centri di aggregazioni Che per il momento si limitano solo a Monteviglio E il prossimo passo è coinvolgere diversi centri della zona Passiamo alla terza domanda Quanto dura e quali attività si svolgono? Questa volta parla Alessandro Memoli Il progetto ha avuto inizio il primo gennaio del 2011 Ed ha una durata di 18 mesi Quindi concluderà il 30 giugno 2012 Inizialmente c'è stata una fase di organizzazione Che è durata fino alla fine di aprile Dopodiché c'è stata una conferenza a Berlino In cui hanno partecipato dei nostri ragazzi Di nome Kick-Off In cui si parlava di come si sarebbe fatto continuare il progetto A febbraio nel 2012 i ragazzi di Berlino Verranno a loro volta in Italia A vedere come lavoriamo noi Il lavoro è organizzato su varie tematiche Che vengono chiamate newsroom E si dividono in politica, economia, tempo libero, sport, locale, Europa e cultura Queste informazioni vengono ricercate da noi ragazzi Tramite i vari media Come giornali, internet e telegiornali E vengono trascritte in modo interessante Che possa coinvolgere i ragazzi della nostra età Questi articoli verranno diffusi tramite sms E ulteriormente rafforzati Dalla web radio Radio Regaz Quarta domanda A chi ha aperto News for Youth Chi può partecipare e come può farlo? Parla Giorgio Vabbè il progetto è aperto ai ragazzi dai 13 ai 20 anni Qui da noi possono partecipare tutti i ragazzi Che vogliono partecipare naturalmente Non c'è bisogno di nessuna iscrizione Nessuna liberatoria e tutto Però c'è bisogno solo che veniate Agli incontri che organizziamo Questi incontri si svolgono al martedì Al centro giovanile di Montivelio E si decide che il News crew far parte Poi si viene e si partecipa Ok, ultima domanda Perché partecipare a questo progetto? Risponde Bobbanz da noi Partecipare a questo progetto Garantisce un'opportunità di cooperare Con i rispettivi coetanei Nello sviluppo di un sistema multimediale Di diffusione attraverso gli email e gli sms Di informazioni e di svariati argomenti di interesse Di notte gli incontri organizzativi con compagni di Berlino Garantiscono scambio culturale Conoscendo e confrontando le situazioni politiche Sociali e economiche Nei rispettivi paesi Ringraziamo i nostri collaboratori Che hanno partecipato all'intervista Per informazioni sul progetto europeo Andate su www.news4yout.com News4yout con la 4 Non col 4 Ricordatevelo E se siete interessati alla programmazione di Radio Ragaz Potete seguirci all'indirizzo www.radioragaz.it Il servizio è stato realizzato da Riccardo, Alessandro, George, Valerio, Bogdan, Michael e Giulia In collaborazione con la Blogos Web Radio Ed è disponibile anche su www.ilblogos.it Radio Ragaz Montemeglio In supplying per video . . . Grazie a tutti